Ma la conclusione era stata che l'unico organismo politico destinato alla perpetuità era quella della Chiesa, governato dal Papa e dai Cardinali. Non c'è davvero molto di comune fra il Cortese e il Machiavelli, ma si può dire che è una concezione esenzialmente analoga alla della Chiesa Cattolica, che in sostanza viene ridotta al suo governo, Papa, Cardinali, Curia, Vescovi. Abbate il generale dei grandi ordini, come nel Decadinalato del Cortese non c'è posto per il basso clero e per i laici. Così il Machiavelli si inchina indifferente alla cagione che mente umana non aggiugna. È vero che il Fiorentino pone a contrasto, secondo un modulo ormai antico, l'avarizia dei curiali e dei grandi della Chiesa.